Bella a tutti ragazzi, sono sempre io, oh mia tol, e oggi siamo qua in questo nuovo video Allora, subito, happy wins, lo chiamo subito, dov'è il mio mouse? Perso, allora play, dai dai, play now, si, bella a tutti Oddio non ce la faccio più, che cazzo è, cos'è, cos'è, un'ambulanza Cos'è, cosa fa, oh mio dio, keep out Ragazzi, pazzesco, le gambe Mi manca una gamba ragazzi, no, le braccia Risate più finte di Fabio Caressa Complimento a lui Che si vede la gamba Dai cazzo, loading replay, incredibile, siamo ancora qua intanto a Brofist Iscrivetevi intanto al mio canale Non sto copiando nessuno, sono solamente me stesso che faccio questi video Brofist Dai, Cristo, fanto, dai Non è vero ragazzi, sta scherzando Aiutatevi Ragazzi, Brofist Devo fare una cosa Intanto iscrivetevi al mio canale ragazzi Perché siamo tantissimi Si Brofist Aspetta, aspetta una Ragazzi Siamo pronti Ancora Intanto vi tiro su un altro un po' di bianca Ringrazio il grandissimo bomber che mi ha Mi l'ha inviata Sotto casa Siamo tantissimi Happy Whits Happy Whits La neve qui è la coca Forse la coca serve a questo Per tenere questi ritmi Oddio ce la faccio più Io voglio parlare delle droghe Dei giovani Delle nuove droghe Io ormai ci sono Ci sono dentro Qui la chiamano la bamba La bamba Le paste Dai ci caliamo Che bello Che bello Passa oltre No Ciò chiamo Siamo pronti Ok Ma è lo stesso livello che ho fatto prima Ma tutto da solo Oh mio dio Ho spinto il pulsante Cos'è? Cos'è ragazzi? Cos'è? Su giù Cos'è? Sto vedendo il replay forse Non lo so Ha 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 Pum Cos'è ragazzi? 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 videozono ragazzi intanto questo video non ho fatto nulla mettiamo un sacco ragazzi facciamo intanto questo nuovo livello vediamo chi sceglieremo no il cannone oh mio dio delle lambe oh mio dio è caduto guardate ragazzi la testa tutto il sangue no non ci credo troppo bello rifacciamolo rifacciamolo ragazzi perché è stato veramente un livello troppo epico guarda dai oh oh la gamba no dai il culo c'ho le morroide che mi escono dal culo dai dai no il pisello oh c'ho le mie cose eeeh ha scorreggiato eeeh ha 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 è scompasso rifacciamolo perché è troppo bello oh 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 il cappellino oh oh è morto rifacciamolo perché è troppo bello ragazzi allora allora vediamo se ce la facciamo oh 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 no oh aah sono morto ah ha 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 allora vediamo siamo qua in un altro livello scegliamo 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 una persona a casa quella sulla bici con il bambino perché non lo scegliere nessuno ha 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 eccolo dai hey hey guys è pure e pa here hey no daddy please daddy no oh daddy my ex oh è comparso un altro è comparso un altro da nulla oh mio dio oh mio dio papà papà scegliamo dimmi papà papà aiuto 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 la badonda aiuto ci hanno ucciso aiuto papà aiuto ah ah troppo bello facciamo un altro un altro col bambino un altro col bambino dai ragazzi ragazzi siamo pronti perché questo video è troppo epico c'è sempre il bambino ehi papà aiuto ehi ehi c'è una freccia oh oddio una polpa papà no oh 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 papà ti prego ah sì oh oh papà oh papà ah sì 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 oh oh no così papà oh necrofilia sì troppo bello oh dove c'è papà oh sei morto oh oh la mia voce oh 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 dai papà andiamo papà papà sì oh no papà non lasciarmi no ti prego no 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 sono morto i serve it on a cone with two giant balls and you'll swallow it even if it comes off your nose yum yum ecco quel rumore ah forse ho scorreggiato ah oh my oh my dico forse ho sentito che sei un grande fan di gaboture ti hai ripreparato una domanda e dai te la lascio fare fa la e se come farai a fare i film porno sto andando in iperventilazione e dai te la 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 la